Da un lato si producevano divani e poltrone, dall'altro si smaltivano i materiali di scarto, oltre a rifiuti pericolosi di ogni genere. Il tutto in modo completamente illecito. E quanto hanno accertato i finanzieri della compagnia di Monopoli a Conversano, dove una fabbrica manifatturiera operava senza autorizzazioni. Accanto era stata anche realizzata in un terreno una discarica abusiva. Secondo quanto emerso dalle indagini, venivano smaltiti assieme a materiali di scarto anche veicoli fuori uso, motori, marmitte, batterie, filtri dell'olio, tettoie coibentate e pneumatici. Il responsabile dell'attività è stato denunciato per reati ambientali, per le violazioni sulle norme che garantiscono la sicurezza dei luoghi di lavoro e per abusivismo edilizio. Nella fabbrica è stato rintracciato anche un lavoratore impiegato in nero, che privo di dispositivi di protezione, lavorava a contatto con colle e vernici considerate pericolose per la salute. Sul terreno accanto alla struttura, estesa complessivamente su 13.000 metri quadri, venivano bruciati anche scarti di lavorazione e i divani che l'impresa ritirava a fronte di nuove consegne. Roghi che producevano emissioni gassose e tossiche nocive, evidenziano i finanzieri che hanno disposto la sospensione dell'attività.